Ho fatto tante cose ma senza Dio non avrei fatto nulla, ho un grande senso di gratitudine verso il cielo. Parole di Bud Spencer, chi non ha mai visto uno dei suoi film in televisione. A lui è dedicato un libro intitolato Spaghetti con Gesù. Vi racconto la teologia di Bud Spencer, libro firmato da un amico di Padre Pio TV, sacerdote e scrittore Don Samuele Pinna. Buongiorno Don Samuele, ben trovato. Buongiorno, buongiorno, grazie. Allora partiamo proprio dal titolo che hai scelto per questo libro, Spaghetti con Gesù. Perché? Il titolo nasce da solo, nel senso che stavo pensando a un titolo perché questo mio libro è una biografia un po' particolare, non è proprio una biografia canonica, dove l'ultimo capitolo tratta della fede di Bud Spencer. Stavo pensando a un titolo quando mi sono imbattuto in questa intervista dove appunto il giornalista chiedeva a Bud Spencer che cosa avrebbe voluto mangiare come ultimo pasto e con chi? E lui risponde Spaghetti con Gesù Cristo. E allora ho detto questo non può che essere il titolo del mio libro. E così è stato. Quindi è Bud Spencer che mi ha suggerito il titolo. Bello questo. Recentemente ho visto una tua intervista in cui dichiaravi alla presenza della tua mamma di aver visto da piccoli film di Bud Spencer e Terence Hill che insomma in qualche modo ti hanno comunque lasciato dei valori, qualcosa di importante. Sì, è brutto vedere un film di Bud Spencer e Terence Hill con me perché sono tutte le battute ormai a memoria. E come diceva Bud Spencer, al di là della leggerezza della trama, le trame sono trame comunque leggere, c'è il principio che il bene vince il male, che i buoni riescono a sconfiggere i cattivi ma mai con una violenza vera. E questo per chi è piccolo e galvanizzante vedere un po' le risse, i pugni, le sberle, ma nello stesso tempo faceva passare l'idea della difesa dei più deboli, di chi è in difficoltà in maniera disinteressata anche se per esempio immagino alcuni film come Trinità, in realtà loro vogliono sempre approfittarsi degli altri e alla fine i loro personaggi aiutano tutti. Allora questo lascia un bel messaggio, se vogliamo semplice però profondo. Il bene può vincere il male e allora questa cosa fin da piccolino mi è rimasta. In questo libro Don Samuele racconti davvero le tappe più importanti della vita di Bud Spencer, i successi nello sport, non dimentichiamolo, nel cinema e poi la bellezza di vivere proprio all'interno della sua famiglia, valori che poi ha manifestato e trasmesso nel quotidiano e al grande pubblico. Esatto, Bud Spencer è proprio una figura ricchissima, lui dice ho fatto tante cose e tutte le cose che ha fatto tra l'altro gli sono riuscite, viveva con facilità le cose della sua vita, campione sportivo, dopo un paio d'anni che non si allenava più è tornato in Italia perché era emigrato in Sud America e vince i titoli, entra nel cinema senza volerlo e ci rimane tutta la vita, è imprenditore, fa un sacco di cose, veramente è una figura particolare e ricchissima, non si può restringere solo in un aspetto la sua vita, la sua vita è veramente una vita a 360 gradi che dice la bellezza di quest'uomo, la grandezza anche, ed è un uomo che non si è mai preso sul serio e quindi trasmette anche serenità, gioia e anche umiltà. Tu hai avuto modo di incontrare i familiari di Bud Spencer, non so, anche magari di regalare loro il tuo libro? Io quando ho scritto la prima stesura del libro, mia mamma così la cito, mi ha detto che non andava bene, era il mio modo di scrivere ancora un po' scientifico e quindi ho rivisto un po' il testo semplificando, facendo più un racconto che un resoconto, però mi sono chiesto, io devo anche conoscere qualcuno che ha visto da vicino Bud Spencer, allora mi sono messo in comunicazione proprio con la sua famiglia e devo dire che, devo ringraziare, ringrazio ancora, hanno trasformato quel libro perché mi hanno raccontato degli aneddoti che non si trovano da nessuna parte e in modo particolare un ringraziamento speciale è alla moglie di Bud, Maria Amato, che è una donna straordinaria con cui sono ancora molto legato, ci sentiamo periodicamente perché è proprio una bellissima figura, ecco, Bud Spencer non era solo Bud Spencer o perlomeno l'umanità di Bud Spencer non si capisce se non si tiene conto della sua famiglia che è una famiglia davvero straordinaria. Don Samuele, prima di salutarci, una battuta al volo, magari anche racchiusa in una parola, che cosa ci ha lasciato Bud Spencer? Bud Spencer ci ha lasciato l'allegria, la voglia di vivere, la sua filosofia che era il futtenne, che vuol dire, ma si lascia correre, fregatene, ma non nel senso di disinteresse, nel senso che ci sono cose più importanti nella vita. Quando mi è venuta l'idea di scrivere questo libro, è nata dal fatto che alcune cose che io dico come prete e le dico quasi come lavoro. Sentirle dire da Bud Spencer mi hanno folgorato, perché ho detto che testimone può essere questo uomo? Ecco, l'ultima cosa che voglio dire di quello che lui ci ha lasciato è proprio il credere in Dio, perché lui diceva in qualcosa si crede, anche l'ateo crede nel non credere in Dio. Noi crediamo sempre a qualcosa. Allora lui diceva trovare la cosa giusta in cui credere e faceva riferimento appunto Dio dicendo non posso vivere senza credere. Credo che sia un messaggio bellissimo. Grazie, grazie Don Samuele. Vorrei ricordare il titolo del tuo libro, Ancora, edizioni, Spaghetti con Gesù Cristo, la teologia di Bud Spencer, firmato da Don Samuele Pinna, che sicuramente ritroveremo anche prossimamente perché ci sono altri libri dei quali dobbiamo parlare e che vogliamo condividere con i nostri amici telespettatori. Grazie di cuore, buona giornata Don Samuele. Grazie, grazie. Grazie a tutti. E allora, credo che adesso sia il momento, sia arrivato il momento di tornare in pubblicità perché come ricordavo intorno alle 9-5 ci collegheremo con Piazza San Pietro per ascoltare le parole di Papa Francesco. Restate con noi lì nella regia.